Oggi parliamo del tanto dibattuto argomento del ferro nella dieta vegana, perché si dice giustamente che il tipo di ferro presente nei vegetali è diverso dal tipo di ferro della carne, ma vedremo non solo che questo non è un problema, ma che è un grande vantaggio, quindi ribalteremo completamente la prospettiva. Allora, il ferro è un minerale essenziale al funzionamento di diversi processi nel nostro organismo e diciamo che la sua funzione più nota è quella di partecipare al trasporto di ossigeno in tutto il corpo e quella di partecipare al metabolismo energetico e quindi alla produzione di energia. Negli alimenti il ferro si può trovare o sotto forma di ferro eme, quindi complessato a una molecola di eme, oppure sotto forma di ferro non eme, diciamo così libero. E qual è la differenza? La differenza sta nella percentuale di assorbimento di questi due tipi di ferro, perché il ferro di tipo eme passa la barriera intestinale indiscriminatamente e quindi senza regolazione e vedremo che questo non è tanto un vantaggio, mentre invece il tipo di ferro che il nostro organismo decide se assorbire o meno è quello di tipo non eme e quindi quello che si trova nei vegetali. Diciamo subito che non è che la carne contiene solo ferro di tipo eme e che quindi anche la carne, la maggior parte del ferro che contiene, è del tipo contenuto nei vegetali. Quindi decade subito quella raccomandazione che spesso si sente dire che per aumentare le scorte di ferro bisogna mangiare la carne. In ogni caso il ferro contenuto nella carne per la maggior parte è dello stesso tipo del ferro dei vegetali. Qual è la differenza tra questi due tipi di ferro? È nella percentuale di assorbimento che si chiama biodisponibilità, ma capiamo subito che la bilancia non pende a favore del ferro della carne, tutt'altro perché è vero che la biodisponibilità del ferro di tipo eme è di circa il 15% e invece la biodisponibilità del ferro non eme è circa del 5%, però questo non importa perché nei vegetali c'è circa il triplo del ferro contenuto invece nella carne e quindi le due cose si compensano. Le diete più ricche di ferro sono le diete vegetali, quelle completamente vegetali perché i vegetali contengono tantissimo ferro e sarà poi il nostro organismo a decidere se assorbirlo o meno. In stato di bisogno aumenterà il numero di recettori sulle cellule intestinali per assorbire il ferro. Invece in caso di non bisogno il ferro verrà accumulato all'interno delle cellule intestinali che poi desquamandosi verranno eliminate con le feci. Il ferro è un ossidante, a noi serve avere del ferro per quei processi che abbiamo menzionato prima, ma non abbiamo nessun vantaggio da avere elevati depositi di ferro. È come se voi per accendere il fornello invece che una scatola di fiammiferi sul bancone della cucina da utilizzare al bisogno teneste un ripostiglio pieno di fiammiferi, che non è una cosa molto sicura e questo è la stessa cosa che avere elevati depositi di ferro e quindi il fatto che il ferro eme contenuto nella carne e in altri prodotti di derivazione della carne e del pesce sia di tipo eme, questo non ci deve rendere molto felici. Il ferro non eme, quindi quello vegetale, può migliorare il suo assorbimento in diverse condizioni, se si associa alla vitamina C per esempio e basta mettere qualche goccia di limone nell'acqua, oppure se si associa nello stesso pasto ad acidi organici e basta mangiare una fetta di melo o mettere un po' di frutta nell'insalata, oppure migliora ancora l'assorbimento se in seguito ha lievitazione acida e quindi per esempio possiamo scegliere un pane integrale a lievitazione naturale, come vedete non sono degli accorgimenti particolarmente difficili. Ancora la biodisponibilità del ferro migliora dopo l'ammollo di legumi e cereali, ma noi sappiamo che in quel caso cuoceranno anche più velocemente. Facciamo un calcolo, prendiamo per esempio 100 g di carne bovina e 100 g di lenticchie. La carne bovina contiene 1 mg e 8 di ferro, la maggior parte di tipo eme, mentre invece le lenticchie ne contengono 8 mg tutto di tipo non eme. Come vedete non importa se la differenza di biodisponibilità tra ferro eme e ferro non eme esiste, perché comunque nei vegetali ve ne è il triplo o comunque molto di più e quindi assolutamente non è un nutriente di cui bisogna preoccuparsi in una dieta vegetale che comprenda tutti i gruppi alimentari. E quindi vedete che in pochi minuti abbiamo smontato tutte le false dicerie che si dicono riguardo a ferro e dieta vegana. Quello che è vero è che ci sono delle categorie che indipendentemente dal tipo di dieta sono a rischio di carenza di ferro, ma questo per un loro elevato fa bisogno come i bambini e le donne in gravidanza, anche le donne in età fertile che comunque ogni mese con il ciclo mestruale hanno una perdita delle loro scorte di ferro e quindi indipendentemente dal tipo di alimentazione seguita, il ferro è un nutriente a cui porre attenzione in queste categorie di soggetti.